La forza dei numeri, l'esperienza maturata e tanta voglia di far evolvere ancora di più il turismo marchigiano. È su questo e su molto altro ancora che fa leva alla ricandidatura di Boris Rappa, consigliere regionale uscente, si presenta nuovamente per le elezioni del 20 e 21 settembre prossimi. E lo fa all'interno della lista che unisce Italia Viva, PSI e Civici a sostegno del candidato governatore di centrosinistra Maurizio Mangialardi. Durante gli ultimi cinque anni Rappa non ha saltato nemmeno un consiglio regionale ed è stato tra i più attivi nel proporre delle nuove leggi. Sono qui oggi a presentare la mia candidatura che vuole essere un proseguimento del lavoro svolto fino ad oggi. Faccio parlare i numeri, sono stato presente sui 177 consigli regionali, uno dei pochi sempre presente, sono il secondo per numero di proposte di legge presentate. Ho fatto un totale di 277 atti consigliari. Dico questo perché partendo da un racconto del lavoro fatto in questi anni bisogna cercare di proseguire per il prossimo coinquegno. Oltre al sostegno del sindaco di Fano Massimo Seri, durante la presentazione della sua nuova candidatura Rappa ha ricevuto anche l'endorsement di Moreno Pieroni, assessore regionale uscente con delega al turismo che proprio il Rappa vede il suo successore ideale. Data la sua competenza nel mondo dell'ospitalità e visto e considerato come i due durante gli ultimi cinque anni abbiano lavorato fianco a fianco per lo sviluppo del settore che rappresenta anche un ottimo strumento per la creazione di nuovi posti di lavoro. Ho maturato esperienze e questa esperienza la voglio mettere a disposizione dei marchigiani partendo dal turismo dove ho determinate competenze e dove il settore del turismo oggettivamente è stato uno dei settori che ha prodotto maggiori risultati. Penso al riconoscimento della Nolini Planet come destinazione Marchi che è la seconda destinazione al mondo per il 2020 dopo la Via della Seta. Questo riconoscimento internazionale prestigiosissimo non è casuale ma è il frutto di cinque anni di lavoro e qui devo ringraziare anche l'assessore Moreno Pieroni che ha veramente creduto nel turismo e soprattutto ha anche accolto molte mie stanze che come operatore sono riuscito a portare all'attenzione del governo regionale. Da qui bisogna ripartire mettendo questa volta al centro il lavoro perché viviamo in un periodo estremamente difficile causato dalla pandemia del Covid e il lavoro deve essere al centro delle agende istituzionali. Il lavoro che deve essere declinato verso il mondo femminile, il lavoro che deve essere declinato verso i giovani ma con particolare attenzione anche per il mondo verso dei disabili, delle categorie più in difficoltà perché con opportune misure penso si possa riconoscere anche a queste categorie un sostegno e un aiuto. Il lavoro è dignità per la persona e da qui bisogna ripartire. Grazie a tutti.